Completata dalla ASL la campagna di vaccinazione contro il Covid nei piccoli centri in provincia di Teramo, dieci comuni interessati da questa iniziativa che ha visto un'ottima risposta da parte dei residenti, dai giovani ma anche degli anziani che non avevano ancora provveduto a vaccinarsi. Il team messo in campo dalla ASL di Teramo ha sottoposto a vaccinazione l'intera popolazione residente che aveva manifestato il proprio interesse alla somministrazione. La vaccinazione oltre a limitare i disagi e lunghi spostamenti per i residenti nei centri più remoti con la seconda dose darà la possibilità di creare piccole zone covid free che assicureranno non solo la ripresa di una normale vita sociale in queste comunità ma potranno anche rendere le destinazioni turistiche appetibili proprio per le garanzie di sicurezza sanitaria che tanti villeggianti oggi ricercano. Fortunatamente la settimana scorsa abbiamo fatto la vaccinazione di massa di Castelcastagna quindi dei piccoli borghi sono veramente molto soddisfatta soddisfatta per un duplice motivo da un lato perché adesso sono anche più tranquilla per i miei cittadini i quali riprendono anche a vivere una vita un po' più normale con quelle che erano le abitudini insomma della socialità e dell'incontrarsi dall'altro sono contenta soddisfatta perché chiaramente si va verso la stagione estiva e questo permetterà anche a chi vorrà raggiungerci chi vorrà venire a vedere le nostre bellezze le nostre magnificenze sapere che un comune covid free quindi più sicuro più tranquillo e quindi ecco ci ospichiamo che tanti arriveranno e li aspettiamo. È stato un importantissimo lavoro fatto in sinergia con la ASL perché voi sindaci vi siete uniti a questa campagna. Sì e in questo caso veramente devo ringraziare la ASL perché è stata attenta proprio alle esigenze dei piccoli comuni quindi ringrazio il direttore generale il direttore sanitario ringrazio veramente tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo questo oggi ci permette di dire che veramente la quasi totalità del territorio di Castelcastania è vaccinato e quindi ci permette anche di vedere in chiave positiva il futuro.